Buon consiglio, una santa giornata a tutti, ben ritrovati sulle frequenze della nostra amata radio. Ora una nuova puntata di questo ciclo di Catechesi di Maria Nunquansatis, la seconda dedicata al tema di Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. Una volta scorsa abbiamo introdotto questo tema cominciando a vedere un po' il mistero della redenzione universale operata da Gesù e la centralità della sua opera sia di redenzione sia di mediazione che attualmente nel suo stato di gloria, di intercessione. Abbiamo ricordato che San Paolo ci ricorda che Gesù glorificato è seduto alla destra del Padre intercede e abbiamo visto che queste funzioni di Gesù sono in vario modo e a vario titolo partecipate nella Chiesa e dalla Chiesa e in maniera del tutto particolare da Maria Santissima. Come abbiamo anche visto l'olta scorsa, i tipi di approcci che sono stati dati a questo tema a seconda dell'orientamento teologico delle due distinte correnti mariologiche, faccio un po' una sintesi, quella cristotipica e quella ecclesiotipica, rilevando anche come la via più prudente, più cattolica che mi avviso è migliore, è sempre quella che tiene presenti entrambe, le esigenze entrambe vere di questa duplice collocazione o meglio referenzialità, se così possiamo dire, della Madonna, il cui mistero si comprende sia in riferimento a Cristo e soprattutto in ciò che ha di singolare e straordinario la vicenda di Maria Santissima, sia in riferimento però alla Chiesa, cioè in ciò che, essendo ella comunque una creatura, la rende, certamente in un modo del tutto peculiare e in parte vicina a noi. Abbiamo poi cominciato a introdurre, perché questo è un tema fondamentale, il concetto di redenzione, quindi l'opera di redenzione compiuta da Gesù, parlando esplicitamente della redenzione come riscatto dalla schiavitù, termine Paolino, abbiamo visto, è Apoliutro, ci siamo fermati qui e cominciando a introdurre questo tema. Cosa è successo? Perché l'uomo ha bisogno di un redentore? Abbiamo visto la volta scorsa e adesso riprendo proseguendo il tema. Ha bisogno di un redentore di uno che paghi il prezzo del riscatto, perché praticamente cosa succede? La natura decaduta dell'uomo dopo la colpa d'origine non si trova più in stato di perfetta libertà, anche se rimaniamo liberi, ma questa libertà è una libertà, diciamo così, violentata e, entro certi limiti, limitata, nel senso che certamente l'uomo continua a poter discernere e compiere il bene o il male che conosce come tale. È solo che c'è un problema, caduto in una situazione di inimicizia nei confronti del Signore e di amicizia, anzi amicizia, come dire, tirannica, perché esercitata attraverso l'oppressione della schiavitù nei confronti di chi lo ha fatto, lo ha indotto al male, che è il diavolo, da questa situazione da solo non ne può più uscire. Si determina una situazione di questo genere tale da dover ingenerare la necessità di un riscatto. Allora, perché? Allora, fin dai tempi dei padri della Chiesa, questo ricordo bene gli studi cristologici proprio sul tema in senso stretto della redenzione, si andarono, come dire, formando due correnti distinte. Anche qui una è vera, la seconda ha qualche elemento, ecco, di verità, ma da prendere molto con le molle. Insomma, sto prezzo di riscatto, il nostro Signore Gesù Cristo, a chi lo ha pagato? D'accordo? Al creatore delle nostre anime, quindi era un prezzo dovuto, come dire, ha la sua giustizia e vedremo in che senso. Oppure il prezzo è stato pagato al sequestratore, cioè al diavolo, perché potesse togliere le grinfie da noi? Ecco, qui dobbiamo entrare un po', ci avremo adesso, questo è una catechesi, no? Cioè, per preparare un incontro di questo genere con tutte le citazioni di nomi e cognomi dei padri della Chiesa con tutti i luoghi ci metterei due mesi. Cioè, se dovessi fare una lezione universitaria sarebbe un problema. Quindi chiedo anche un pochino di fiducia, insomma, anche se si possono facilmente andare a verificare, insomma, le informazioni che vi dico, insomma, specialmente adesso che abbiamo una rete. Allora, vi dico subito che la teoria giusta è la prima, cioè il prezzo del riscatto è stato pagato, diciamo così, capiamo che queste sono espressioni da intendere con grano salis, quindi è il concetto fondamentale. Cioè, noi dobbiamo comprendere che una volta persa l'amicizia con Dio, ci siamo spogliati della grazia santificante, purtroppo abbiamo causato un disastro anche dentro di noi, oltre che fuori di noi, gli abbiamo detto un amen, quindi un sono d'accordo con te, e questo se gli dici che sei d'accordo con lui, te mette le mani addosso e non te le toglie più, al diavolo. Abbiamo visto la volta scorsa la grande differenza che c'è, perché il diavolo i suoi li tratta come schiavi, Dio i suoi li tratta come figli. Cioè, io posso in qualunque momento scegliere di peccare, ma non posso in qualunque momento, semplicemente con un atto di mia buona volontà, scegliere di essere santo, perché senza l'aiuto di Dio questo non si può fare una volta che io mi trovi stato di natura decaduta. L'abbiamo vista la volta scorsa, no? Quando si entra sotto la sfera d'azione del nemico, non bisogna andarci sotto l'azione della sfera d'azione del nemico, perché il nemico non ti rispetta. Il nemico non è come l'altissimo, l'altissimo rispetta la nostra libertà, l'altissimo rispetta la nostra dignità, non ti farà mai fare niente forzatamente contro la tua volontà. Il diavolo no. Ecco, posso fare una piccola parentesi anche se riusciamo oggi al 29 ottobre, non ripeto tante cose perché chi vuole sapere che cosa penso, che cosa ho detto su Halloween, basta che va sul mio canale YouTube e trova anche su questo canac, anche su questa radio, insomma abbiamo fatto più di qualche intervento in merito, no? Ma il problema legato a queste circostanze qui è che il diavolo fa le trappole, d'accordo? Come invece con Adam e Eva, cioè Adam e Eva sapevano mica che se facevano quel disastro si andavano a servire alla peggiore schiavitù che esiste al mondo, messi con un cappio al collo che non ti può liberare più. È chiaro che sono stati tratti in inganno, d'accordo? Sono stati circuiti. L'inganno che ordinariamente circulisce il diavolo, ma che non c'è problema, non succede niente, non succede, è sempre la stessa cosa, che cosa dissi Adam e Eva? Ma non morirete affatto, che te mori da conoscenza del bene e del male, che mori, che se ti succede niente, te lo dico io, non succede niente, anzi, se lo fai sarei pure un sacco contento perché conoscerai il bene e il male, diventerai come Dio, altro che, ecco, questa è sempre la stessa canzone, capite? Se voi ci pensate, Halloween è la stessa cosa, ma che vuoi che sia un ragazzino che fa fare un certo scherzetto, questa maschera da vampiro, ma che è? Ma è una carnevalata questa qui, ma è un giochetto da ragazzini, ma che so ste cose, ste esagerazioni da talebani o cose del genere, no? Quindi ha fatto sempre così, solo che tu abbocchi, dici vabbè, ricordate la scena della genere, sennò, eh ma guarda sto frutto, dice ma tutto sommato, tutto quanto sta grande, attenzione a quello, è una mica un fruttarello o un pomo, eh, ricordiamo sempre la simbologia, dice ma tutto sommato, non è che mi sembra che sia tutto, tutta sta schifezza, proviamo, ecco, è la fine, è la fine, è proprio una trappola, capite? Cioè avete visto le trappole, questi film, no? Quando nelle savane fanno le trappole agli animali, no? Quello sta a camminare, a un certo punto, adesso, suc, parte sta rete, lo incastra là dentro, alla fine, se hai caduto un trappola, c'è bisogno di qualcuno che viene e ti libera da lì, ecco, questa era la nostra situazione, d'accordo? Ora facciamo un passaggio ulteriore, questa è la situazione dell'essere umano, allora, che cosa è successo in realtà con il peccato? Tutte queste considerazioni sono assolutamente propedeutiche, perché io non posso capire niente della corredentrice, neanche posso parlare della corredentrice, se non capisco cos'era la retenzione, perché poi dovremmo vedere se e come e in che senso la Madonna ha cooperato a quest'opera, perché era conveniente, conveniente, perché non era strettamente indispensabile, ma era conveniente, Dio l'ha voluto e una volta che Dio lo vuole diventa necessario, ma di per sé era conveniente che la Madonna collaborasse a quest'opera con Gesù, eccetera, allora, facciamo questo step ulteriore, guardiamo il peccato originale, cosa è successo? Allora, ci sono vari elementi dentro il peccato originale. Primo c'è quella che si chiama tecnicamente, voi sapete, la definizione del peccato data da Sant'Agostino che era e che rimane tale è, che cos'è il peccato? Dice, il peccato è un'offesa fatta a Dio trasgredendo la sua legge. Riprendiamo la diretta, carissimi aspettatori, c'è stato qualche problema di connessione, quindi faccio un attimo un piccolo riassunto di quanto ci siamo appena da poco detti. Stavamo dicendo che dopo il peccato originale si determina una condizione di schiavitù dell'uomo, d'accordo? dinanzi a cui bisogna pregare un prezzo per il riscatto, proprio come era nel diritto romano. Ok, allora, che cos'è il peccato? Stavamo dicendo. Il peccato, diceva Sant'Agostino, è una offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge, perché proprio il costitutivo formale del peccato è la trasgressione, cioè tu sai che Dio non vuole che tu faccia una cosa e volontariamente trasgredisci. Cosa determina questa cosa? Numero uno è un'offesa nel senso che è, come dire, una prevaricazione, capite? Tu che sei una creatura ti metti a competere e a sfidare il tuo creatore, tu che sei un ente finito ti metti a paragone con un ente infinito, tu che sei poco meno che nulla, come dire, ti metti in competizione con la sapienza infinita dell'altissimo, d'accordo? E questo è proprio dato dalla trasgressione, cioè dal dire no, non faccio quello che dici tu, ma faccio quello che dico io. Questa cosa, questo è un film che è stato già girato prima della formazione del pianeta Terra, perché questo film fu girato ed è lo stesso identico copione da parte degli angeli ribelli. Da parte degli angeli ribelli questa trasgressione volontaria, essendo più perfetta di quella nostra, ha comportato una situazione di irreversibilità, quindi impossibilità di tornare indietro, quindi di rimettersi nel bene per la perfetta adesione al male in quanto perfettamente conosciuto e voluto da uno spirito e da una mente tutta spirituale appunto come quella angelica e quindi non imperfetta come la nostra. Teniamo presente Adamo sapeva che non doveva fare quello che ha fatto, ma non ne era in grado di valutare e di ponderare perfettamente le conseguenze, non si immaginava che sarebbe successo tutto quello che sarebbe successo. Lucifero invece sapeva benissimo quello che sarebbe successo in base al suo atto ed ecco perché quello di Adamo è irreversibile e quello di Lucifero è irreversibile. Ora però si racconta alla Genesi che questa trasgressione, questa offesa è stata perpetrata su istigazione del serpente e quindi dire fiat al serpente significa essere attratto nel suo mondo e il serpente una volta che ti tira nel mondo suo e ti trascina lontano da Dio non ti tratta come ti tratta l'Altissimo. Ah, va bene, tu sei venuto da casa mia? Bene, se domani te ne puoi andare vattene, facevo prima il riferimento di Halloween. Quando una persona come dire in qualche modo è toccata da qualche cosa di negativo, andate a chiedere insomma la gente che è posseduta, non è che tu. Vabbè, confessione, è finito il discorso. No, no, è facile caderci ma è difficilissimo liberarsene. L'unica cosa che rimane integra, e questo l'avevo già accennato, è il libero arbitrio, nel senso che la persona mantiene comunque l'intelligenza e la facoltà di governarsi ma il ritorno a Dio e soprattutto la riparazione delle conseguenze di quel gesto non è più in suo potere. E ha comunque una pressione che appunto si denomina schiavitù da parte di colui nelle mani del quale è caduto e che è cattivo, talmente forte che se non intervenisse un'azione espressa ed esplicita di grazia attuale da parte del Signore, tu non te la liberaresti mai più. Capito? Mai più. Questo ci fa subito comprendere a livello catechetico che la conversione di un peccatore è una grazia e questa è una verità di fede definita dalla Chiesa Cattolica, cioè una persona che si trova in stato di nemicizia con Dio, in stato di peccato mortale, in stato di lontananza da Dio, non può senza una grazia per particolare da parte del Signore rimettersi nella possibilità di tornare a Dio. Ora attenzione, questa grazia d'accordo, se la merita una persona che volontariamente, scientemente, liberamente ha sputato sopra il Padre Eterno mettendosi nelle mani di chi lo odia, no. C'era bisogno di chi? Di chi? Ecco perché il Redentore, diciamo, c'è un'opera spettacolare. Adesso le cose che sto dicendo si trovano principalmente in due autori, San Leone Magno, grande padre della Chiesa occidentale, grande Papa, e Sant'Anselmo da Osta, distanti nel tempo di 5, 6, 7 secoli, insomma, l'uno dall'altro, ma veramente fenomenali tutti e due. Allora, chi è il soggetto offeso dal peccato? È Dio, è Dio. Chi può riparare un'offesa fatta a Dio? Che è un'offesa che colpisce un essere infinito e quindi la cui proporzione è infinita. Chi potrebbe fare una cosa di questo genere? Soltanto un altro Dio. Un uomo non potrebbe farlo. Per cui già per far capire qualcosa, non supponiamo che la Madonna avesse voluto fare la Redentrice, non poteva farlo. Perché la Madonna è una creatura. La riparazione, il prezzo del riscatto deve essere sborsato da un soggetto della stessa dignità del soggetto offeso e quindi deve essere Dio. Secondo, deve essere Dio ma da chi è stato commesso il peccato? Da un membro della razza umana, il peccato reversibile, perché gli angeli non potrebbero portarci, non potrebbero essere Redenti per come abbiamo visto prima. Quindi questo qui non deve essere soltanto Dio ma deve essere anche uno di noi. E allora? Avete capito perché si è incarnato il verbo? Perché è vero Dio ed è vero uomo. Quindi in quanto vero Dio il sacrificio, il prezzo che offre ha valore infinito e quindi copre tutti i peccati del genere umano e adegua la dignità del soggetto offeso. Ma è un membro della razza umana, colpevole o innocente? Innocente. Perché il sacrificio di chi non è innocente non può riparare le colpe altrui, ma ripara le colpe proprie. Se l'è stata ammessa ieri, la seconda lettura, il sacerdote ordinario, dice l'autore della lettera agli ebrei, non serve soltanto ad offrire doni e sacrifici per i peccati degli altri, diceva la seconda lettura. Ma devo offrirli pure per se stesso, perché lui pure è che non è un amico padre eterno, un prete, d'accordo? Un sacerdote sia dell'Antico Testamento che anche del Nuovo Testamento. Anche io sono così. Solo il sacrificio di Gesù è completamente rivolto solo agli altri, non i nostri, perché io sono un esser umano e non tutti gli altri, anche se sono un sacerdote. Capite? Allora ecco qua. Perché il prezzo del riscatto? Perché? Adesso qui entriamo in Leone Magno, che è veramente spettacolare. Spero che la grazia dello Spirito Santo mi aiuti, perché io veramente quando ho sempre queste cose ho strabuzzato gli occhi, mi sono venuti due occhi grossi così, perché veramente proprio... Allora, tenere presente una cosa. Attenzione, un'ultima cosa, prima di passare. Come Gesù ha redento noi. Cosa dice San Paolo? Ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Cioè, Adamo ha una cosa, ha disobbedito trasgredendo volontariamente. Gesù la vita terrena è stata un'obbedienza continua e ininterrotta, non solo continua e ininterrotta, ma spinta fino alla cosa più difficile, più folle, più assurda che si potesse fare. Perché capite che Dio ha fatto uomo vada a fare la peggiore morte che si potesse fare in quel contesto storico, riservata ai più grandi criminali facenti parte delle classe più abbiette e nella forma più cattiva, perché si poteva anche essere legati alla croce, come i due ladroni, ma Gesù è stato inchiodato sulla croce, cumulando in sé delle pene, la flagellazione e la crocifissione nel diritto romano non erano cumulabili. Credete che ho fatto la tesi dell'Auro in diritto romano, quindi lo conosco. Il Ponzio Pilato, come dimostra la sindone, perché si sono cumulate? Perché Ponzio Pilato volevo usare la flagellazione, dico, ma questo lo faccio scarnificare, poi lo presento all'Ece Homo, gli dirà, basterà, no? Perché lui sapeva che non aveva fatto niente, dice, però, questi vogliono che gli do una lezione, se no, mi vanno a fare un sacco di rogne, questi gli stanno antipatico, è un giusto che dà pastiglio alla gente, eccetera, eccetera, però, dice, facciamolo flagellare, lo facciamo massacrare, lo espone e qui ti dicono, no, crocifiggio, crocifiggio, Pilato si è messo la mano sulla testa e dice, ma come faccio? Solo che a un certo punto ti direi, senti, sai che ti dico? Tiè, buonanotte, me lavo le mani, colpa vostra. Non è vero che è così, perché lui comunque ha la responsabilità in quanto magistrato di liberare un innocente, però è andata così, quindi San Paolo dice, ubbidiente fino alla morte e alla morte di Croce, capito? Cioè, è stato proprio un completo rovesciamento, capite? Rovesciamento totale, e questo perché? Perché era giusto che così fosse. Noi dobbiamo ricordare che la misericordia di Dio, questo abbiamo sempre ricordato, è una misericordia giusta, misericordia e giustizia non possono essere concepite come alternative, cioè Dio è misericordioso e quindi non è giusto, mai pensare a una cosa di questo genere, oppure Dio è giusto ma non è misericordioso, mai? Io dico sempre, una misericordia giusta e una giustizia misericordiosa, per tenere sempre bene le cose. Allora, quindi, un uomo innocente, che era veramente Dio, ha completamente rovesciato rovesciato al contrario Adamo. Attenzione! Perché? Cosa scrive San Paolo nella prima lettere corinzio e una lettere romane? Adesso non mi ricordo. Queste testuali parole, comunque. Come tutti, per il peccato di Adamo, sono stati costituiti peccatori, così tutti, per l'innocenza di uno solo, saranno costituiti giusti. Allora, seguitemi questo passaggio, questo è San Leone Magno, che tra l'altro poi fa comprendere come la redenzione è stata, perché il diavolo non è scemo, quindi il diavolo non voleva che l'uomo fosse redento. Per cui, se avesse saputo bene certe cose, pur con tutta la rabbia che ci aveva, in croce Gesù Cristo non ce l'avrebbe messo, perché se avesse saputo tutto, e adesso lo vedremo, avrebbe compreso che quella che era comunque uno sfogo del suo odio sarebbe anche stata la fine del suo potere, quantomeno sugli uomini che avrebbero voluto sfuggire alle sue griffi. Andiamo per gradi. Allora, la redenzione è stata una grandissima trappola e c'era da pagare un prezzo. Allora, cosa dice San Leone Magno? Allora, se tu pecchi, si legge nella scrittura, uno è schiavo di colui che l'ha vinto, quindi questo vale anche per i peccati che facciamo noi. Io sto in grazia di Dio, cosa ci insegna il catechismo della Chiesa? Quando io pecco, perdo la grazia santificante, quindi io non sono più amico di Dio. E cosa divento? Divento amico di chi? Divento amico del diavolo, perché ho detto Amen alle opere del diavolo. Gesù dice nel Vangelo di San Giovanni, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato e voi volete compiere le opere del Padre vostro, avete per Padre Satana di cui compite le opere, dice Farisei nella polemica del capitolo sesto, se non del capitolo di uno dei capitoli di San Giovanni, il discorso polemico su Abramo con i Farisei. Quindi, una volta che tu diventi schiavo del diavolo, il diavolo non ti molla e ha ragione a non mollarti. Perché? Perché tu volontariamente ti sei messo nelle mani di quello e quello dinanzi a Dio reclama ciò che è suo. Attenzione, è in base a questo principio, fate attenzione, che tuttora adesso si va all'inferno, perché guardate che Dio all'inferno non ci manda proprio nessuno e io non sono eretico di quelli che pensa che l'inferno non esiste o che l'inferno è vuoto, d'accordo? Ma Dio non ci manda proprio nessuno all'inferno perché Dio ha mandato suo figlio perché all'inferno non ci andasse nessuno. Nella divina volontà sarebbe che all'inferno non ci andasse nessuno e perché all'inferno purtroppo invece non è vero che non ci va nessuno? Perché cosa succede? Se io pecco mortalmente, perdo la grazia santificante, entro in grazia di Satana, Satana, quello che è suo, se lo tiene, d'accordo? E non c'è nessun motivo per cui debba lasciarlo, Dio non gli può ordinare, lascia il peccatore, perché Satana gli risponde, lascia il peccatore e dica, questo lui non ti vuole, questo è venuto dalla parte mia, perché dovrai lasciartelo? Io non te lo mollo più. E il diavolo può farlo perché è schiavista, ma ha ragione di farlo, ecco perché noi siamo folli quando facciamo un peccato, perché gli diamo ragione. Allora, che cosa bisognava inventarsi? Bisognava inventarsi appunto un prezzo del riscatto tale che disarmasse il diavolo per cui una persona potesse sganciarsi dalle sue figlie, dalle sue grimpie, senza violare la giustizia però. Noi sappiamo qual è il prezzo del riscatto? Il sangue di Cristo. Andiamo un pochino adesso addentro. Dice Salone Magno, la redenzione è stata una trappola, cioè cosa ha fatto il nostro Signore? Gli ha occultato. Capito? Allora, il diavolo sapeva che il verbo si sarebbe fatto carne, questa era la causa del suo peccato originale, capito? ma sapeva che si sarebbe fatto carne per nobilitare la creazione, eccetera, eccetera. Non sapeva certamente che si sarebbe fatto carne per redimere l'uomo che il diavolo stesso lo avrebbe indotto a peccare, ok? Allora, assoluto lui gli occulta il mistero dell'incarnazione. Il diavolo non sapeva con certezza che Gesù di Nazareth era il verbo di Dio fatto carne. E questo si vede in tante cose che ha fatto il Padre Eterno, no? San Leone Magno. Per esempio, la famiglia che aveva. Sembrava Gesù una persona effettivamente normale, figlio di Giuseppe e di Maria. Il fatto che questo non date retta tutte quante le favole, i Vangeli apocrifi, cioè durante la vita a Nazareth non è successo niente di appariscente, niente di strano, capite? La Madonna non ha fatto nessun miracolo. Gesù non faceva niente di straordinario. Sicuramente avevano i loro personali momenti di preghiera intima, blindati, certamente chiusi agli occhi del diavolo, ma esteriormente non davano segnali tali, perché altrimenti quello non è cretino. Guardiamo la tentazione nel deserto. Il diavolo non era sicuro che quello era Gesù. Se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, oppure quando lo provoca attraverso i demoniati, ah tu sei figlio di Dio, sei venuto a rovinarci. Gesù non risponde mai. Taci, esci da costui. Quindi è certo che lui aveva qualche sospetto, ma non era sicuro. La recrudescenza della passione, che succede? Passione. Cosa è stata la passione di Gesù? Questo ce lo spiega Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Attenzione, io capisco che basta seguire bene, dopo alla fine è tutto quanto chiaro. Cosa dice Gesù prima di congettare i discepoli nel discorso da Dio? Attenzione ragazzi, dobbiamo andare, viene il principe di questo mondo. Attenzione, egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e faccio quello che il padre mi ha ordinato. Attenzione. Che succede da quel momento? Da quel momento il padre smette, diciamo così, di proteggere il figlio. E il figlio rinuncia a proteggersi. Abbiamo visto l'episodio del Gesemani, quando arrivano dice chi cercate sono io, gli dimostra che li può buttare tutti a terra. Ma dopodiché, chi cercate, vi ho detto che sono io, da quel momento lui cessa di proteggersi come Dio. E chiaramente l'odio fomentato dal diavolo, che comunque vedeva in Gesù un giusto, si scatena il finimondo, e si possono sfrenare come vogliono. problema. Gesù meritava un trattamento del genere? No. Perché chi è che può soffrire giustamente e morire giustamente? Ce lo ricorda il buon ladrone che stava appeso a fianco a Gesù? Cosa dice il buon ladrone? Noi ce lo meritiamo di stare qui. Ma lui non ha fatto nulla di male. Allora l'innocente, il Dio innocente, è stato ucciso dal diavolo. Il diavolo, secondo noi, secondo voi, ha violato la giustizia? Certo che l'ha violata. Perché anche se non sapeva che era il figlio di Dio, lui si è scatenato e ha ucciso un uomo innocente. Ecco perché San Paolo dice, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma che succede? Guardate, io sono un peccatore, tu diavolo c'hai potere su di me, mi tratti come uno schiavo perché io da scemo ti ho dato questo potere. E tu reclami giustizia davanti a Dio e dici, perché mi togli Leonardo? Ha fatto un peccato mortale, la sua anima è mia. Non aveva nessun motivo, io l'ho tentato, l'ho vinto, quindi è lui passato da parte mia, io adesso non lo mollo. Ma Leonardo dice, Signore Gesù, per il tuo sangue che io invoco, liberami. E lo fa. E il diavolo si ricorda subito, tu giustamente possiedi la mia anima, ma tu ingiustamente hai ucciso il figlio di Dio. Quindi io invoco quel nome e quel sangue e tu con giustizia devi togliere le tue grinfie di dosso a me. Capito? Spero che sia caro, io quando ho visto questa cosa dico, mamma mia ragazzi. Capito? È bellissimo. Si capisce il meccanismo della retenzione, per quanto possibile, non è solo umano? Perfettamente. Capite? Anche perché San Giovanni Paolo II diceva, chi non crede al diavolo non crede a Gesù Cristo, perché c'è tutta st'operazione qui, capite? Tutto quanto lo strapotere del male che noi vediamo in giro, e ce lo prendiamo sempre col Padre Eterno, ma noi ce lo dobbiamo prendere con noi stessi, perché il male e anche quindi tutto quanto il male, che è chiaro che il diavolo che lo fa il male in giro, come ci ricorda anche sempre Papa Francesco che si sta scatenando, ma chi glielo dà tutto sto potere al diavolo? Glielo dà Dio? Ma Dio ci farebbe far fare del male al diavolo? Ma certamente no. Glielo diamo noi, glielo diamo. Stupidi che non siamo altro. E non si offenda nessuno. Io non mi offendo, perché io mi ce riconosco, che sono proprio un deficiente, o quantomeno lo sono stato. Capite? Perché ogni volta che tu pecchi, tu dai gloria a Lui, tu dai potere a Lui, tu scacci via la grazia di Dio, sputi in faccia al Padre Eterno e dici, bello diavolo, vieni, vieni, io mi consegno a te, anche se tu questo non lo pensi, questo fai peccando. Capito? Chiarito questo concetto, quindi, è ovvio che quello che ha fatto Gesù Cristo basta come prezzo del nostro riscatto, quindi tutto il suo sangue, un'obbedienza di questo genere, ma non è che basta, avanza. E allora a che serve, cominciamo? Comunque c'entra la Madonna? A che serve con la Madonna? Calma, 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 calma. Passo indietro, passo indietro. Cominciamo a introdurre il tema della corretentrice, poi la prossima volta lo svilupperemo. Passo indietro, passo indietro. Il peccato originale, chi è il soggetto principale? Quello per il quale il peccato originale è stato un problema, trasmesso per tutta la razza umana. Chi è? Adamo. E chi è il Redentore? È Cristo. Noi ricordiamo il presidente ciclo di Catechesi, attenzione che la mariologia è tutto quanto connessa, vi ricordate quando abbiamo parlato di tante cose, l'originità perpetua, dice la Madonna è la nuova Eva, come Cristo è il nuovo Adamo. Quindi Adamo ha fatto il peccato originale, Gesù Cristo è il rovesciatore di Adamo, d'accordo? Satana ha fatto una trappola ad Adamo e Adamo c'è cascato, Gesù Cristo ha fatto una trappola a Satana e Satana c'è cascato. D'accordo? Vedete, vedete queste cose, è bellissimo perché si vede anche la sapienza, la bellezza di Dio. Allora, però, Satana, scusate, Adamo è stato indotto al peccato da chi? Da Eva, perché Satana ha sedotto prima Eva e attraverso Eva ha sedotto Adamo. adeghe. Quindi, bastava la redenzione operata da nostro Signore Gesù Cristo? Sì, però il peccato originale l'hanno fatto in due, anche se la loro principale è Adamo, giusto? Adamo ed Eva. Anzi, Eva è stato il motore propulsivo di questo fatto. Quindi, non sarebbe meglio affiancare subordinatamente, certamente, e affianco al Redentore una corredentrice che svolga la funzione di Nuova Eva, e così sia un'opera più conveniente, più perfetta, d'accordo? Che sostanzialmente, d'accordo? Parlando di necessità in senso strettissimo, in teoria non aggiunge niente, però rende l'opera della redenzione molto più perfetta e molto più completa. Allora sì, allora certamente sì. Ecco, quindi, che Maria Santissima, guardate poi, no? Cioè, viene Adamo e Eva è generata da Adamo, attenzione, eh? Cioè, è tratta da Adamo, giusto? Invece che succede con la coppia Gesù-Maria? Cioè, prima Maria, e Gesù è tratto da Maria, perché Maria viene da Adamo senza concorso femminile, diciamo così, e Cristo viene da Maria senza concorso maschile. Sant'Anselmo diceva, au, prima che ci fosse un'incarnazione, c'erano stati vari modi con cui la razza umana era comparsa. Uno l'ha fatto direttamente il Padre Eterno, che è Adamo. Poi abbiamo una donna nata da un uomo, che è Eva. Poi abbiamo maschi e femminili nati da un uomo e una donna, che è la razza umana, ci mancava solo una. Un uomo nato da una donna. Eccolo qua. Ma questo uomo, vedete sempre il contrario? Quindi, vedete che la redenzione come capovolgimento, cioè come ti rifaccio il contrario, quindi rovescio una situazione che era stata rovesciata. Quindi, se io prendo una statua e la rovescio, poi per metterla dritta la devo nuovamente rovesciare. Capite? Questo perché? Perché nelle operazioni divine, questo ci dobbiamo mettere bene in testa, come dice il Papa, come dice le cose importanti, dice, uè questo mettetevelo bene in testa, le operazioni divine sono perfettissime. Se l'ordine della giustizia è stato violato, quell'ordine deve essere ripristinato. Ad litteram, è perfettissima. Allora, se, sì, la colpa, cioè se avesse peccato soltanto Eva, domanda da grande conoscitore del Catechismo 10 e Lode, se avesse peccato soltanto Eva, noi ce lo piavamo, un peccato originale? No, non ce lo piavamo, perché Eva non è il capostipite della razza umana. Così, se soltanto la Madonna fosse stata, diciamo così, redentrice, l'umanità sarebbe stata redenta? Nein, per nessun motivo. Però, Adamo ha peccato per il concorso di Eva? Sì, e Gesù ci redime con il concorso volontario, non necessario, ma conveniente di Maria Santissima. Ed ecco così situato, da un punto di vista teologico, il problema della corredenzione. è qualcosa che è conveniente alle operazioni della Divina Giustizia per rovesciare completamente il disordine causato dalla coppia Adamo-Eva, con la nuova coppia Gesù-Maria, nuova Adamo e nuova Eva. Quindi, la Madonna entra in questa dinamica, perché poi, attenzione, qual è l'effetto della redenzione? L'effetto della redenzione, dice San Paolo, è la riconciliazione dell'uomo con Dio. Cioè, l'uomo volontariamente aveva sputato sulla grazia di Dio, quindi sulla possibilità di vivere con la sua amicizia e con la vita divina. Questa cosa, una volta che si è persa, questa perdita è irreversibile, perché tu stai soggetto e schiavo da parte di chi non la vuole la grazia di Dio e non è giusto restituirtela, perché tu ci hai sputato sopra. Quindi, l'opera di Gesù, a che cosa serve? Serve a riaprire il cielo, a ridarti per giustizia misericordiosa la possibilità di riaprire la grazia perduta. Quindi, l'opera di Maria Santissima, se è opera corredentrice in senso stretto, come vedremo, dovrà essere collocata dentro questa funzione della redenzione, quindi della riapertura del cielo. Perché, come vedremo più avanti, c'è un'altra modalità di collaborazione alla redenzione di Gesù e questa riguarda tutti noi. Avrete sentito certamente parlare, per esempio, nella Chiesa delle anime vittime o la Madonna che sta sempre chiedendo sacrifici e preghiere per la conversione dei peccatori. Ma scusa, ma se la conversione dei peccatori è una grazia che ha già ottenuto Gesù con la sua opera redentina, ma che bisogno c'è della mia preghiera e dei miei sacrifici? Lo vedremo, ovviamente, questo qui a suo tempo, perché vedremo che c'è una forma di partecipazione molto inferiore, molto diversa alla redenzione che coinvolge tutti noi. Ma la Madonna non è corredentrice come lo siamo noi, perché questo non ci sarebbe nessun problema teologico, nessuna difficoltà. La Madonna è corredentrice nell'opera della redenzione compiuta da Gesù, cioè nella riapertura del cielo, cioè, usando il linguaggio tecnico, nel riacquistare la grazia perduta per l'umanità, sbarrita e decaduta. Questa è un'operazione molto più grande che fare una preghiera e un sacrificio perché la grazia possa raggiungere qualcuno in una certa circostanza qui e ora. E vedremo che la Madonna, per questo che abbiamo detto oggi, è corredentrice sotto questo primo punto di vista. Ed è una cosa che ha riguardato soltanto lei. Nessun altro. La Madonna ha alcune cose in cui è assolutamente singolare, no? L'Immacolata Concezione c'era solo lei. E se tu piacciono o non piacciono, quelli che vogliono minimizzare la Madonna. La Madonna Immacolata Concezione, sì o no? Sì, ce l'ha soltanto lei. La madre di Dio ce n'è qualcun'altra? Ce l'ha soltanto lei. Vergine prima, dopo, durante e dopo il parto ce l'ha qualcun altro? Ce l'ha soltanto lei. Quindi non si discute. Cioè che la Madonna abbia delle cose che ha soltanto lei, cioè cose singolari, è assolutamente in dubbio. La corredenzione di Maria è un'opera del tutto singolare. Cioè quella forma di partecipazione alla redenzione di Gesù riguarda solo lei a titolo diverso rispetto a come riguarda noi e a titolo diverso, perché subordinato, dipendente, non necessario, rispetto a quello che ha fatto suo figlio Gesù. Ecco, cominceremo adesso, abbiamo situato bene il problema, dalla prossima volta scenderemo nel merito. La prossima volta vedremo bene che cos'era la corredenzione mariana, come ha funzionato, perché era conveniente, l'abbiamo già introdotto, ma l'approfondiremo che fosse da Dio decisa, e quali sono gli effetti, e quanto dobbiamo quindi essere gradi alla Madonna, eccetera, eccetera, eccetera. Di tutto questo però ne parleremo a Dio decendo la prossima settimana. La mia benedizione a tutti, Ave Maria.